argomento no allora aspetta come gli piacciono a lei brionde, brune non mi dica a tutte c'è deve essere una preferenza il suo modello di donna ideale pure che sia un'attrice una sportiva posso intervenire? come no? prego allora la prima cosa che ti vedi Mario con chi te la sei fatta? nooo ma qua c'è stato un scoop dopo chi te la sei fatta? dopo con chi te la sei fatta? vai con quale vestito portava? com'era la vestita? vogliamo sapere a sta botta o vogliamo sapere? no adesso è il primo adesso mi ha venuto in romantra non ne so quali posso scegliere la 1 al 2 a 3 nooo addirittura eh certo beh partiamo da allora facciamo così beh questo mi fa capire che lei ce n'ha avuto più di una oh oh eh qualcosa adesso non mi voglio tanto no no chiaramente abbiamo chiesto non si sta a mandare beh insomma certo ci si è dato i roversi ci si è dato i raffari me si è dato i raffari nooo ci si è dato i raffari sì c'è però devo riconoscere rispondendo a te che tipo di donna mi piace oh il proprio modello sì la bellezza che ti piace beh la bellezza mi piace la bellezza mediterranea quindi la bellezza mediterranea tipo di donne belle formose davvero che l'isservo pri Grazie a tutti